Sì, grazie Presidente. Allora, abbiamo preferito, parlando chiaramente con gli uffici, cambiare completamente il punto 7, anche se da un punto di vista solo formale ma non concettuale, perché rispetto alle premesse poteva dare adito a delle imprecisioni. Perché questo? Perché siccome riprende un punto delle premesse in cui si fa riferimento ad una legge che dà la facoltà ai comuni di prevedere, appunto nell'ambito della Tari, un'agevolazione per tutte quelle, per le onde, insomma per tutti quei commercianti che possono attuare un progetto sperimentale. Ma proprio il fatto che nelle premesse venga individuata una legge precisa, che è la legge 166 del 2018, chiaramente circoscrive questo progetto sperimentale ad una materia, cioè la riduzione dello spreco alimentare. Ebbene, mentre nelle premesse appunto era indicata questa normativa che quindi ancora questo progetto sperimentale a quella data materia, non era previsto appunto al punto 7. Quindi abbiamo preferito, proprio per chiarezza e per individuare il perimetro in cui questo progetto sperimentale debba essere individuato, e abbiamo quindi preferito riportare anche nel deliberato l'indicazione della legge 166 del 2018. Per questo abbiamo fatto questo emendamento che chiaramente voteremo favorevole. Ne approfitto solo per ricordare, perché insomma uno sta qui seduto e sente di tutto e di più, che l'Atari nel primo agosto 2014 in questa città fu aumentata del 4%, in una notte tra il 31 luglio e il primo agosto 2014. Questo tanto per dire che nel 2014 si era nel momento più alto dell'immondizia intorno ai secchioni con quintali di rifiuti abbandonati. Io lo ricordo perché da ex consigliera municipale chiedemmo con forza un consiglio. Ebbene, proprio nell'anno 2014 il governo Marino aumentò del 4% l'Atari, che diminuì di un 1,5 punto percentuale nel 2015. Quindi voglio dire, sentiamo sempre attacchi a questo governo del Movimento 5 Stelle sul lamento dell'Atari o comunque che non si è fatto abbastanza quando dal pulpito dal quale viene queste critiche non credo proprio debbano parlare. Anche perché vedendo una proiezione vediamo che proprio sotto il governo 5 Stelle l'Atari ha avuto una diminuzione anche se non molto incisiva, comunque nell'ordine dell'1,56%. Questi sono dati che io ho ricavato chiaramente su internet, ho fatto degli incroci prima di dirlo e quindi possono essere abbastanza precisi. Quindi ricordiamo ai Romani, ma questo lo diciamo noi, che Marino alzò al 4% l'Atari. Grazie.